Trattamento fine rapporto, incentivo esodo. Gli uomini finalmente come le donne. Gli ex dipendenti Telecom ed Enel di sesso maschile andati in mobilità prima del 2006 con meno di 55 anni di età hanno finalmente in campo di agevolazioni fiscali gli stessi diritti delle colleghe in gonna. Secondo la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sezione 30, pronunciata lo scorso 10 maggio, è stata riconosciuta agli uomini la stessa agevolazione fiscale sul TFR che era applicata alle donne. Secondo il DPR 91786, divenuto poi articolo 19, le donne potevano ottenere una agevolazione fiscale sul TFR dell'11,5% già andando in mobilità all'età di 50 anni, mentre lo stesso trattamento era riservato agli uomini solo al raggiungimento del 55esimo anno. Una disparità quindi fondata sul sesso. Grazie alla sentenza di qualche giorno fa, pronunciata dalla Commissione Tributaria Palermitana, anche gli uomini hanno potuto ottenere tale agevolazione fiscale, pur non avendo raggiunto i 55 anni di età. È andata bene quindi ad un ex dipendente Telecom di Canicati, assistito dall'avvocato Luigi Iventriglia, che si è visto riconoscere finalmente i propri diritti. Una sentenza di particolare importanza che fa giurisprudenza, in quanto vengono trattati principi costituzionali. Un altro aspetto trattato in sentenza riguarda la tempestività della richiesta dei rimborsi. La legge, in base all'articolo 38 del DPR 602-73, prescrive che tale richiesta venga inoltrata entro 48 mesi dalla prima trattenuta economica. Con la sentenza di qualche giorno fa è stato superato il problema dei termini prescritti dall'articolo 38, riconoscendo la possibilità di inoltrare richiesta di rimborso a partire dalla pubblicazione della sentenza 207-04 della Corte di Giustizia Europea del 21 luglio 2005. In quell'occasione la Corte di Giustizia Europea aveva condannato la disparità di trattamento tutta italiana tra uomini e donne che erano andati in mobilità. Infine, la Commissione Tributaria Regionale di Palermo ha condannato l'ufficio resistente, ossia l'Agenzia delle Entrate, a pagare anche le spese di giudizio. Avvocato, c'è una recentissima sentenza che ristabilisce la parità tra uomini e donne in materia di agevolazione fiscale. Sì, ha detto bene. È stata una recentissima pronuncia dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo il quale si è pronunciata positivamente a favore degli uomini. E qui parliamo, nel caso di specie, di un ex dipendente della Telecom il quale appunto non era stata data la possibilità di ottenere l'agevolazione fiscale in quanto non aveva compiuto i 55 anni. Ebbene, questa sentenza fa giustizia anche agli uomini, quindi alla categoria sfavorita, che non avevano ottenuto l'agevolazione fiscale. E quindi dà un principio di particolare importanza, dà la possibilità anche agli uomini di ottenere l'agevolazione fiscale dell'11,5%, cosa che invece potevano ottenerlo solo all'età di 55 anni. Un altro aspetto molto importante della sentenza è la richiesta che doveva essere fatta entro i 48 mesi. Bene, questa sentenza della Commissione regionale tributaria di Palermo ha riconosciuto tale diritto solo dopo la pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia europea. La Corte di Giustizia europea si è pronunciata solo nel 2005. Così quindi ha accolto le richieste la Commissione tributaria e ha detto in maniera esplicita La richiesta poteva essere fatta solo dopo che il contribuente aveva conoscenza di tale diritto, quindi dopo il 21 luglio del 2005. Quindi è una sentenza di particolare importanza che ristabilisce la parità dei sessi tra uomini e donne in materia di agevolazione fiscale. Parlando di TFR, a quale categoria di lavoratori è rivolta questa sentenza? Sì, bene, la sentenza è rivolta a tutti coloro che erano ex dipendenti Telecom ed Enel ed erano andati in mobilità prima del 2006 e non avevano compiuto i 55 anni di età. Quindi tutti coloro che erano andati prima di questo periodo ora hanno diritto al rimborso di tale somma, non è appunto agevolata.